ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video allora come avrete letto dal titolo oggi voglio condividere con voi un profumo davvero molto molto carino con un costo super super economico perché stiamo al di sotto dei 5 euro in realtà il costo effettivo di questo profumo è di 3,99 euro ve lo avevo anticipato su instagram e quindi eccomi qui voi sapete io sono sempre molto molto entusiasta ho lo stesso entusiasmo quando acquisto questi profumi così economici di quando acquisto dei profumi magari un pochino più importanti l'entusiasmo è sempre lo stesso soprattutto se è una cosa che mi piace tantissimo e che mi sorprende dunque sono stata da Lidl in realtà qualcuno di voi mi aveva già accennato a questo profumo e quindi visto che l'ho trovato non ho resistito e l'ho preso poi ovviamente al prezzo che ha allora la linea è sempre quella suddenly in realtà sono le linee profumate di Lidl che a me piacciono di più sono uscite delle altre profumazioni negli anni che però non erano targate suddenly e in realtà non mi hanno convinta poi al 100% mentre queste profumazioni sono sempre quelle che mi sorprendono di più il profumo in questione è uno dei parfum da donna io direi che potrebbe tranquillamente essere un unisex e si chiama Summer Shine allora a parte il fatto che un profumo che si chiama così doveva ovviamente catturare la mia attenzione la cosa che mi dispiace parecchio è il fatto di non avere trovato nulla per quanto riguarda la piramide olfattiva e quindi insomma vediamo un attimo vi racconto un po' quello che questo profumo mi ha trasmesso insomma che riesco a sentire allora ovviamente il packaging sia esterno che quello interno insomma non sono così proprio intriganti e accattivanti però insomma le cose non dobbiamo mai lo sappiamo lo ripetiamo sempre mai giudicare dall'apparenza mai giudicare dall'esteriorità quindi le cose vanno sempre approfondite idem per la boccetta che non è proprio il massimo però insomma per il prezzo che ha e per la bontà della fragranza insomma cerchiamo in qualche modo di accontentarci capisco che le boccette belle, curate nei minimi particolari hanno il loro perché però ribadiamo sempre la stessa cosa dobbiamo trovare una sorta di equilibrio quindi trovare qualcosa che ci piace e nello stesso tempo se non abbiamo la possibilità di spendere tanto per un profumo insomma ben vengano anche questi packaging non eccezionali e queste boccette diciamo non da grande collezione allora chi mi ha consigliato questo profumo mi aveva anche accennato al fatto che il profumo somigliasse moltissimo al sun di Jill Sander che io in realtà ho venduto perché è un profumo con cui ho avuto un rapporto un po' così, un po' altalenante ora questo profumo ha un'evoluzione interessantissima per essere un profumo da 3,99 euro devo dire che ha una bellissima evoluzione non è un profumo statico ha una bella struttura allora partendo dal fatto che questo è un floreale fruttato perché io quando lo spruzzo all'inizio sento proprio un vero e proprio cocktail fruttato sento quasi delle note di pesca ovvio che io non ho trovato le note olfattive quindi io vi racconto quello che il mio naso sente magari sento delle cose che non esistono all'interno di questo profumo ma il bello dei profumi è proprio l'immaginazione e lo sfogo della fantasia ognuno di noi nei profumi può percepire qualcosa di personale e può raccontare qualcosa di personale quindi io quando lo spruzzo sento proprio questa nota fruttata tra la pesca e la banana comunque una sorta una cremosità comunque anche tra le note di testa dopodiché nell'evoluzione mi ricorda, mi riporta alla mente il sun perché? perché ci sento e questa si percepisce veramente tanto una nota di garofano quella nota di garofano che io nel profumo di Jill Sander sento veramente forte in questo caso però la nota di garofano sicuramente c'è ma è molto leggera quindi qualcosa che a me non dà fastidio poi nel cuore io riesco ad avvertire e credo che possa esserci all'interno della piramide per esempio l'Ilang Lang ma anche il gelsomino sento proprio questo bellissimo bouquet fiorito molto molto morbido è un profumo che richiama tantissimo quei sentori estivi quei sentori tropicali esotici si sa molto è un misto tra le creme solari tipo la Coppertone e la Nivea la crema Nivea è un profumo che è sì solare sì fresco sì estivo ma comunque con una connotazione leggermente cremosa perché sa proprio di crema solare la cosa molto interessante è che quando si assesta nelle note di fondo diventa un talcato ma così delicato un talcato fiorito ma così carino così delicato che è veramente un piacere indossarlo tra l'altro questo sentore talcato credo che sia più da attribuire ad una nota ambrata quindi più che una nota di iris all'interno di questo profumo è probabile paragonandolo un po' a quello di Jill Sender che ci sia sul fondo più che altro dell'ambra un'ambra molto morbida polverosa che conferisce al profumo proprio quella tipica nota talcata altro particolare interessante il profumo io lo spruzzo adesso me lo sono rispruzzato ce l'ho qui quello che ho spruzzato stamattina alle 10 sono quasi le 2 il profumo si è assestato sulle note di fondo ripeto molto molto talcate però devo dire che io ancora riesco a sentirlo quindi sono passate 4 ore per cui devo dire che anche il test persistenza il profumo lo ha superato ampiamente è un profumo che nelle prime 2-3 ore ha una sua incisività una sua intensità con questo bouquet fiorito ma sempre con un contorno leggermente fruttato è un profumo che ha forti richiami proprio con la spiaggia con l'estate con l'allegria con la spensieratezza quindi perfetto assolutamente per la stagione estiva ma credo che sia un profumo che possiamo tranquillamente indossare malgrado il suo nome anche nella stagione un po' più fredda magari non proprio in inverno ma in autunno sicuramente è un profumo che possiamo continuare ad indossare in ricordo della stagione meravigliosa che è appena terminata ma è un profumo che ha una sua cremosità una sua sensualità una sua calorosità che sicuramente è percepibile ed è apprezzabile anche una stagione un po' più fredda che dire per 3,99 euro consigliatissimo andatelo a sentire perché c'era il tester quindi io l'ho potuto provare e niente ve lo dovevo consigliare dovevo registrare un video è un profumo che vale la pena andare a sentire soprattutto se amate il profumo di Jill Sander Sun che è oltremodo un profumo adesso molto economico ma questo costa ancora meno anche se devo dire che io non li trovo identici identici questo è un po' più morbido un po' più leggero e nella evoluzione cambia parecchio sulle note di fondo ha un fondo un po' più ambrato più più talcato e secondo me è anche un po' più portabile per i miei gusti ovviamente dunque Summer Shine da Lidl correte mi raccomando non fatevelo sfuggire allora il video finisce qui sì per chi se lo stesse chiedendo ho tagliato i capelli ho dato un taglio perché non li sopportavo più e niente vi ringrazio per aver visto il video vi mando tanti tanti baci se vi va ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao